Oggi abbiamo avuto il piacere di presentare sul mercato il nostro nuovo cobot UR16E basato sulla tecnologia E-Series, ultima frontiera tecnologica dell'Università Robots. In particolar modo UR16E offre 16 kg di payload al polso, al massimo reach e alla massima velocità con uno sbraccio orizzontale di 900 mm, il che lo rende perfetto per entrare con successo in applicazione di carico-scarico macchina per pezzi di payload più pesante entro 16 kg e o quando ho preso dei pezzi multipli, laddove appunto si è richiesto dal tempo certo. Inoltre UR16E riesce anche a garantire task ovviamente sempre competitivi e performanti ai nostri clienti con ritori dell'investimento interessanti, analoghi, a quelli che abbiamo su tutta la gamma E-Series. Inoltre abbiamo anche inaugurato ufficialmente il nostro training center autorizzato e siamo orgogliosi di averlo coattori nella nostra sede. È uno dei 13 che Universal Robot ha nelle proprie sede in giro per il mondo ed è uno dei 43 che abbiamo introdotto nelle varie countries per essere sempre più vicini ai nostri clienti e derogare una formazione veramente all'avanguardia con delle aree attrezzate, con un robot ogni due partecipanti e soprattutto un nuovo metodo didattico che consente un miglior apprendimento ai nostri studenti, ai nostri corsisti che un domani appunto utilizzeranno come know-how vero e proprio applicato nelle loro fabbriche e nelle loro applicazioni reali. Grazie a tutti!